Concedetemi una battuta. In questi giorni così convulsi e i prossimi temo che saranno ancora peggio, guardo con una certa invidia all'atmosfera distesa e propositiva che sempre anima questo consesso. Nonostante tutto però resto un inguaribile ottimista, l'ottimismo della volontà per usare una nota citazione, e coltivo la remota speranza che la politica, chiamata proprio in queste ore a compiere scelte fondamentali per il futuro istituzionale del nostro Paese, possa far sua questa stessa capacità di fare del confronto leale, della comprensione reciproca, la modalità principale della sua azione, piuttosto che far trapelare la prospettiva che si possa addirittura fare a meno delle istituzioni relegandole in un museo.